3 cibi che dovete assolutamente mangiare 1 la tigella anche perché può essere fatta in piccole forme o in più grandi quindi una tigellona o una tigella molto buona se riempita con carne, tonno, verdure, insomma una tigella alla marocchina 2 un pane tipico marocchino è un piatto che impara ad apprezzare quando sei piccolo perché ti piace tanto perché è dolce tutto bucherellato, non adatto ai tritofobici 3 il nemico di ogni marocchino in Italia il marocca o tagine io personalmente a volte apprezzo altre volte vorrei evitare di mangiare come potete vedere abbiamo due appoglioni diverse comunque dovete provarlo almeno una volta nella vita è un piatto tipico marocchino ed ho scoperto che è molto simile a un piatto anche italiano le cartellette mi pare si chiamano poi però rimane un piatto tipico marocchino molto 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 buono dolci come me ogni occasione è buona per rimocchiare